La Giunta regionale ha dato il via libera alla realizzazione di un ponte provvisore in località Papalope per consentire il collegamento delle zone penalizzate dalla chiusura del ponte di Oloè sulla strada provinciale 46 Oliena d'Orgali. La struttura venne distrutta il 18 novembre 2013 in occasione delle devastazioni provocate dal ciclone Cleopatra e cui crollo causò la morte del sovrintendente della Polizia di Stato Luca Tanzi e il ferimento di tre colleghi. E' da notizia il Presidente della Regione Cristian Solinas. La Giunta interviene per affrontare condizioni di eccezionalità e urgenza che non possono essere più ignorate. In attesa di una nuova infrastruttura mettiamo in atto una soluzione alternativa in grado nell'immediato di dare risposte alle comunità. In attesa che il ponte torni ad essere un collegamento sicuro, rileva il Presidente Solinas, abbiamo tenuto fede agli impegni presi con i territori con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile i pesanti disagi nei collegamenti che ormai da anni gravano sulla popolazione residente e sull'intero comprensore agricolo del Comune di Oliena. Si tratta di un ponte provvisorio militare del tipo Belei, spiega la Regione, che sarà posizionato immediatamente a valle di quello romano che limiterà i disagi causati dalla chiusura del ponte di Oloe, ancora sotto sequestro. Sul ponte militare potrà tannasitare una tipologia di traffico limitata alle 30 tonnellate, con un'unica corsia e quindi a senso unico alternato. Il periodo massimo di utilizzo del ponte è fissato in base al tempo necessario per la riapertura del ponte di Oloe e non dovrà superare i due anni. La Regione, in stretta collaborazione con gli enti locali, ha affrontato l'emergenza e ha trovato una soluzione alternativa nel minor tempo possibile, spiega l'assessore dei lavori pubblici Roberto Frongia, venendo incontro alle esigenze di territori, in particolare di Oliene e Dorgali, le due comunità più penalizzate dall'interruzione della strada provinciale. In questi mesi non è mai mancato il sostegno ai comuni interessati. Grazie ad una interlocuzione costante e proficua sarà ora possibile attendere con maggior fiducia la soluzione definitiva del problema. Nella zona interessata gravitano circa 370 aziende agricole di allevamento vicaprino e di coltivazione viticola e olivicola.